La parola al campo. Dopo gli ultimi giorni costellati da polemiche e sfociati nelle dimissioni di Giovanni Mussa, sabato sera alle 20.30 parte il campionato di Serie C e dunque anche il cammino della Pergolettese. Un esordio in anticipo dunque nel consueto girone A contro il Piacenza. Una società amica? Se è vero che Cesare Fogliazzi è stato anche nel club emiliano dopo aver fatto grande il pizzighettone e prima di riprendere in mano la Pergolettese? E se è vero che le tifoserie sono unite da uno storico gemellaggio? Proprio venerdì è arrivato l'ok della Lega che consentirà a Fabro, vice del dimissionario Mussa, di andare in panchina per la prima di campionato pur essendo sprovvisto dal patentino necessario in un match che è difficile da decifrare e da pronosticare. La Pergolettese, che ha perso per un mese figoli per infortunio e il Piacenza, non rientrano infatti nel novero delle favorite che per i bookmakers sono Padova e Triestina, prima di tutte con i biancoscudati che per due anni di fila hanno perso la finale play-off, insidiate in prima battuta da Alessandria, Novara e Vicenza. Può essere però l'occasione per il giallo-blu di partire col piede giusto, dimenticando appunto le polemiche e tenendo conto che il tritico che segue, con l'ecco Albinoleffe e Feral Pissalò, mette di fronte i ragazzi di crema, squadre ormai abituate alla categoria e sempre molto insidiose. L'arrivo del campione d'Italia primavera Abiuso dall'Inter offre un'alternativa in più in un attacco che può però già contare sui nuovi Volpe e Iori e su alcune conferme. Per il resto però questa pergolettese, così come questa serie C, la quarta consecutiva per il giallo-blu, è tutta da scoprire.